Nuova settimana di A2x2, in questo lunedì 16 settembre comincia un nuovo ciclo di appuntamenti pomeridiani con la rubrica di approfondimento. Faccio scena alla regia che ho qualche problema tecnico perché mi sento solo da una parte, mi sento mono, vabbè, andremo avanti, cercheremo di fare del nostro meglio. Parleremo molto di Prato, come sempre, d'altra parte nel corso di tutta la settimana, soprattutto in questa giornata perché oggi abbiamo tre ospiti particolari, due tornano a trovarci, uno lo scopriamo per la prima volta, ma la realtà l'abbiamo già sviscerata in tutti i suoi angoli. Parliamo della Banca Popolare di Prato, la banca che sta crescendo, vedremo gli sviluppi, con il presidente del Comitato Promotore, Francesco Garbini-Guarducci. Ciao Francesco, bentornato. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Con Alessio Pacini che ne è vice. Ciao a tutti. E con l'avvocato Stefano Lenzi del Comitato Promotore e anche del direttivo. Avvocato, buonasera. Buonasera a tutti. Non so se voi avete detito, mi avete detto di chiamarlo avvocato, per cui ora non per questo darò del lei all'avvocato e del tuo a voi, perché mi sembrerebbe di fare. Quindi darò del tuo a tutti e buonanotte, vabbè. Naturalmente, Lorenzo. Contravvengo come al solito a tutte le leggi che vorrebbero, che nell'intervista si vorrebbe dare del lei, ho capito, però insomma quando hai ragazzi davanti così splendidi che conosci da tempo e con i quali ci vediamo frequentemente, insomma fare la finzione e darci del lei, insomma va bene. Nessun problema Lorenzo. Siete tutti d'accordo. Ci diamo tutti del tuo e un tuo rispettoso. Benissimo, è un tuo rispettoso. E risplendidi anche quelli conosciuti oggi. Allora, facciamo un po' il punto. Noi abbiamo visto germogliare questa banca popolare di Prato dal bocciolo di un'idea fino ad arrivare ad oggi. Possiamo ripercorrere un po' la storia o possiamo partire dall'ultimo step, cioè dove siamo arrivati, avvocato? Sì, allora l'ultimo step è uno step particolarmente importante. Lo step è stato un pochino anche, già sui giornali c'è stata già una sintesi, in altre parole abbiamo finalmente portato la nostra iniziativa alla Consob. La Consob ci sarà un po' di tempi, però ha già fatto una prima risposta. Dovremmo rispettare comunque i tempi e i tempi dovrebbero essere circa la metà di novembre. È uno step particolarmente importante. Altri progetti, come sapete, già erano stati formati a Prato, però ecco questo, diciamo, è proprio il primo step al quale gli altri progetti non erano mai arrivati. Quindi per noi è un successo particolarmente importante. Il Comitato Promotore conta di, a oggi, circa una quarantina di soggetti e quindi poi una volta arrivati con la risposta definitiva da parte di Consob potremo iniziare la raccolta e il credito. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa che deve dare il proprio giudizio positivo a quello che avete fatto. È andato tutto sostanzialmente bene, non aggiungo la coda di questa cosa che ci siamo detti fuori onda perché Alessio non sarebbe carino nei tuoi confronti. Diciamo che sei stato particolarmente bravo a redigere i documenti. Sì, è stato sicuramente un grosso lavoro da parte del Comitato che, ora, detto così, sembra abbastanza semplice ma è un lavoro che è partito da abbastanza lontano. Non voglio stare qui a ripetere tutti i percorsi. Ma perché no, Alessio? In qualche modo se ce li sintetizzi ci fa un piacere. Anche perché non necessariamente, voglio dire, i nostri ascoltatori magari hanno ascoltato le puntate precedenti dove siete stati ospiti o magari è sfuggito qualcosa. Quindi se ci fai una sintesi dei vari passaggi. Partiamo dalla presentazione che abbiamo fatto nel marzo di 2012, scusate, nell'aprile del 2012, dove abbiamo presentato alla cittadinanza la nostra iniziativa. Da lì è scattato un percorso per allargare il Comitato Promotore per arrivare agli attuali e ufficiali 40 promotori del Comitato. Da quel punto in poi ci siamo adoperati per andare a redigere tutta la documentazione da portare in Consob per poi avere l'autorizzazione finale per iniziare la successiva raccolta. Quindi sapremo in sostanza, siamo arrivati ad oggi, quindi come diceva Stefano Lenzi, la Consob sembra aver dato un primo parere positivo, nel senso mancherà qualcosa da aggiustare, ma come dicevate prima, meno di quanto potessimo immaginare. Dopodiché se tutto andrà bene, dal novembre, quindi dal primo dicembre, che così magari sarà un Natale particolare per i pratesi, potremo parlare di una banca che comincia a nascere davvero. Sì, inizia a nascere perché da lì, come è dato il punto riferimento, possiamo iniziare a raccogliere. Possiamo iniziare a raccogliere le quote di adesione con le fasce che abbiamo indicato sul piano, con una partenza di quota di 2.500 euro ad azione. Una volta raggiunto l'obiettivo della raccolta, da lì poi scatta tutta un'ulteriore fase per la Costituzione. L'obiettivo della raccolta qual è? L'obiettivo della raccolta noi ci siamo mossi in un range che va da un capitale di raccolta minimo di 10 milioni fino a un massimo di 15 milioni. In questo range noi ci possiamo muovere per andare a completare e a definire il capitale sociale. Sensazioni, perché mi fa il segno dell'avvocato? Perché è impegnativo parlare oggi, è più difficile parlare oggi di quanto non l'è stato due anni fa la prima volta. Perché allora c'era tempo, si poteva parlare oggi e ormai siamo qui e o si fa la banca o si muore. La facciamo. La facciamo, bravo. Ecco questo volevo sentire dire. Appunto, quindi è un po' meno utopistica oggi la Banca Popolare di Prato? La Banca Popolare di Prato oggi è meno utopistica. Per quanto mi riguarda non l'è stato mai fin dal momento della presentazione del 17 aprile del 2012. Però dovevano avere delle certezze. Ad oggi sono arrivate ulteriori certezze che ci confortano e ci rafforzano nei nostri convincimenti che il traguardo può essere raggiunto. Sarà un percorso ancora difficile perché adesso entriamo in una fase veramente calda che prevede la sensibilizzazione della popolazione tutta della città di Prato. E quindi a livello personale le persone di questa città dovranno decidere se far nascere questo progetto che diciamo aiuterà tutti noi, le nostre famiglie e le nostre imprese a creare in modo più sereno il nostro futuro. Attenzione ai quadri qualora doveste avere un giorno una sede dove affiggere al muro qualche opera d'arte perché qui in una banca si decide il futuro della banca anche tramite un quadro. Quindi è molto difficoltoso. Certamente. Tutti i disegni del vicepresidente. Esatto, esatto. Ci penserà Alessio a... A denestire la galleria. Esatto, esatto. Una bellissima galleria della banca popolare firmata Alessio Pacini. Che reazioni avete colto dal territorio anche all'indomani appunto di questo che stiamo dicendo oggi e che avete già detto anche sui giornali e in televisione? La città ha dato delle ulteriori risposte sia a livello istituzionale ma anche e soprattutto quello che ci interessa a livello proprio di cittadinanza. La popolazione, Lorenzo, con grossa soddisfazione ha risposto fin da subito in modo positivo e tuttora stanno arrivando numerose email alla nostra casella di posta dove viene richiesto di poter acquistare una quota minima. Vogliono le informazioni appunto per procedere in questo senso. Possiamo darla alla casella di posta elezionale? È difficilissima. Diciamo la quota minima è stata... La casella, la casella. Scusami, Lorenzo. La casella è banca di Prato, chiocciolina, banca di Prato.it. Esatto, quindi non potete sbagliare. Chiunque volesse avere informazioni in merito può scrivere a questa casella, riceverà nell'arco il meno tempo possibile una risposta adeguata a quanto chiesto. Facciamo un facsimile di domanda che mi immagino quale potrà essere appunto quella che dicevi prima, Francesco, cioè come posso sottoscrivere una quota, quanto devo versare, come dovrò fare, devo versare subito i soldi, cosa avrò in cambio, quale certezze, sicurezza e garanzie. Allora, a tutte queste domande noi potremmo dare un seguito, diciamo, in un'area anche del nostro sito internet, nella sezione FAQ, diciamo così, delle domande frequenti, non appena Consob avrà rilasciato la sua autorizzazione per rispettare quanto appunto dettato dalla legge in materia. Per tornare alla tua domanda, Lorenzo, quindi la risposta per quanto riguarda i nostri concittadini, la risposta è stata positivissima, io sono personalmente estremamente contento, ma vedo che anche i miei colleghi e amici di questa avventura manifestano lo stesso sentimento. Quindi la cosa, tutto sommato, anzi, è veramente positiva. Per quanto riguarda le istituzioni della città, come abbiamo avuto modo di dirti anche negli altri incontri, sono arrivati uno dietro l'altro, si sono susseguiti, diciamo, gli apprezzamenti e le aperture, gli appoggi da parte delle istituzioni. Le associazioni di categoria, in modo un pochino più leggero, hanno espresso parere positivo, ma tuttavia rimanevano in attesa di vedere se il progetto fosse arrivato al vaglio della Consob. Come diceva prima Stefano, gli altri progetti in passato non avevano raggiunto questo traguardo. Oggi noi lo abbiamo raggiunto e quasi, diciamo, superato e quindi siamo in una fase molto avanzata del progetto. Ho visto che avete raccolto anche pareri positivi da vostri futuri possibili colleghi di altri istituti bancari che hanno espresso apprezzamento nei vostri confronti, perché c'è stato anche, come dicevamo l'ultima volta che siete stati qui, c'è stato anche, come dire, ci sono stati dei contatti con altre banche popolari, banche più piccole, ti si sente, anche se per Germicoli, questo consulto. Qual è, Alessio? Francesco voleva fare il furbo. Abbiamo avuto anche, come dicevi prima Lorenzo, dei contatti con altri istituti di credito, tutti di carattere popolare, dalla Banca Popolare di Laiatico alla Banca Popolare di Cortona, che sono stati fin dall'inizio molto interessati, perché sul territorio toscano di banche popolari non ce ne sono tante, anzi, sono solamente due, sono Laiatico e Cortona. Pensare di avere un'altra realtà, come potrebbe essere la Banca Popolare di Prato, su un territorio più ampio, più popoloso, ma anche più importante a livello economico, potrebbe nascere sicuramente, sicuramente gli istituti di credito, Laiatico e Cortona avranno fatto questa supposizione, una collaborazione molto proficua e una collaborazione molto importante, per far crescere in modo particolare un tessuto economico, anche se distante tra Cortona, Laiatico e Prato, ma sicuramente che prende tutto il territorio regionale. A livello di amministrazione a Prato il 2014 sarà l'anno elettorale, questo, come voi, vorrei descrivervi le espressioni che hanno fatto i miei ospiti qua in studio, quanto inciderà il voto elettorale in qualche modo? Non dico che, naturalmente, immagino che sia una banca super partes che esula dai legami politici e che non ha nessun aggancio in qualche modo, però magari, chi lo sa, ha anche un'apertura di una parte piuttosto che dall'altra, che non so, che sensazione avete? Potete anche rispondermi in maniera molto diplomatica? No, il microfono è rimasto nel mezzo, si sta litigando. Sì, ho visto che stanno facendo la corsa per rispondere a questa domanda. Sicuramente il primo che è fuggito è stato Francesco subito, non so dove sia finito. Ci sono le elezioni, Lorenzo? No, diciamo che in Comune sì, da altre parti non lo so, perché non si sa ancora bene che cosa succederà in provincia. Allora, noi... Se vuoi posso farti anche l'elenco dei candidati. Questo sarebbe uno scoop. Vabbè, ormai abbiamo già lanciato il nome di uno dei candidati, sembra che siamo in attesa della conferma ufficiale al 100% di Roberto Cenni come candidato del centro-destra e con Matteo Biffoni che sarà il candidato del centro-sinistro. Ma questo lo prendiamo ora. Io ve lo dico in maniera ufficiale, la seconda volta che lo dico qui è apertamente al microfono, vediamo. Allora, la nostra è sempre stata e lo sarà un'iniziativa che vuole coinvolgere la maggior parte di cittadini, la maggior parte delle associazioni e categorie e la stessa cosa vale per le forze politiche. Noi ci sentiamo apolitici per quanto riguarda l'iniziativa che andiamo a portare avanti. Questo lo disse una volta anche Dennis Verdini qualche anno fa. Però... A intervista disse che proponeva la sua banca locale in maniera del tutto politica. Comunque oggi sei particolarmente cattivo, oggi è veramente cattivo. Naturalmente, anzi, a proposito... Non ci vogliamo parlare ai mascelleri. Direi agli nostri ascoltatori che potete intervenire e fare domande al Comitato Promotore della Banca Popolare di Prato, 0574549574. No, a parte tutto, noi siamo convinti e vogliamo anche che questa iniziativa davvero sia un'iniziativa trasversale, sia un'iniziativa che coinvolga proprio tutta la cittadinanza, forze politiche, forze di associazioni di categoria. Cioè, noi siamo partiti da un punto fondamentale, uno spirito proprio di aggregazione. Per noi, l'obiettivo è quello davvero di andare a ricreare questo istituto bancario sul territorio che possa essere al servizio della città, non certamente delle forze politiche, non certamente per qualcuno in particolare. Certo. È un obiettivo molto importante, però noi ne siamo convinti e stiamo lavorando per questo. Avvocato. Sì, no, volevo aggiungere solo due cose. Mi sta querelando, ovviamente. Per il Verdini, per il Paragonal Verdini. Sono d'accordo. Però, cioè, Francesco, c'è una certa somiglianza. No, io penso una cosa. Già il nome del nostro futuro istituto, Banca di Prato. Noi siamo qui, cioè, quindi, qualsiasi forza metta in campo per le prossime elezioni, noi siamo Banca di Prato. Lo dice il nome. Tra l'altro la nostra è un'accezione, come dice sempre il nome, popolare. Io penso sia anche un po' ad oggi il segreto del successo, che abbiamo riscontrato con le persone, con gli interessi che abbiamo avuto, è tutto, cioè, diversamente da altre situazioni di banca, in cui normalmente sono società per azioni. Quindi questo magari, ecco, ci ha fatto vedere l'interesse proprio delle persone per il tipo anche di istituto che pensiamo di realizzare. Quindi la nostra è la Banca di Prato. Noi siamo qui, quindi sia per i foni che per ceni siamo sempre qua. Appunto, esatto. Io non intendevo da che parte vi schiererete, ma volevo dire, secondo voi qualcuno proverà a salire sul carro della Banca Popolare, detto molto francamente? Noi più che salire sul carro, si spera che effettivamente, visto la presenza di un nuovo istituto, che ha un nome, che ovviamente è Banca di Prato, e che oggi, soprattutto dopo la scomparsa, purtroppo, di Cassa di Risparmio di Prato, in effetti, insomma, quando si parla di economia e di finanza, ci tenga a considerazione. Vi faccio una domanda per capire. Quanto tempo è che non sentite più parlare di gonfienti? Degli scavi, di quello che sarà fatto per gonfienti e tutto quanto? Sono esattamente quasi cinque anni, cioè dall'ultima campagna elettorale fatta per Prato. È giusto il tempo di sbandierarlo a destra e a sinistra, poi siamo ritornati ora, e ora si ricomincia a dire, c'è già chi rilavora a gonfienti. In questi quattro anni non è successo niente. Questo è, voglio dire, era già successo anche negli anni precedenti, era per dire, vediamo se in qualche modo si accorgeranno in maniera più vistosa della Banca di Prato. La Banca Popolare, Alessio, anche la WISP una volta si chiamava Unione Italiana Sport Popolare, poi con il passare degli anni ha trasformato il nome Sport per Tutti. Voi sarete la Banca di Prato per Tutti. Meno male oggi è venuto l'avvocato, perché oggi ci vuole proprio l'avvocato, Lorenzo. Allora, saremo una banca per tutti, saremo una banca a disposizione della città, saremo una banca a disposizione nei limiti previsti dalle norme previsti dalle leggi. L'economia deve essere analizzata. Noi pensiamo che questo strumento sia uno strumento che possa dare un segno più, qualcosa in più che aiuti la nostra città. Sicuramente non sarà la soluzione, perché insomma, se no veramente siamo anche troppo avanti. Noi pensiamo all'inizio di essere un piccolo tassello che piano piano può crescere nel tempo. Penso sia una banca per tutti, una banca che possa aiutare la maggior parte dei nostri concittadini e delle nostre aziende. Speriamo che serva anche per rilanciare il tessuto sociale con banche che hanno chiuso i rubinetti del credito e dei finanziamenti. Sicuramente ci sarebbe bisogno di un rapporto più diretto, più agevolato con le piccole aziende locali e credo che se questa banca davvero a novembre ci darà ulteriori segnali positivi alle porte probabilmente delle associazioni di categorie che sono quelle più importanti forse per far sì che ci ingirino una certa liquidità all'interno delle banche, si apriranno. Io vi ringrazio per ora a parte tutto, è stato sempre molto piacevole, molto disponibili a rispondere, soprattutto a Lezio che è insomma un po' la mia sponda, l'avvocato che mi ha bene, firmerò la guerrera che mi farà arrivare a breve, Presidente. Grazie. Grazie a te Lorenzo. Grazie di essere stato con noi, io vi do appuntamento sotto Natale a questo punto, comunque a novembre quando appena ci sarà la risposta ufficiale della Consum, verrete e ci racconterete i prossimi passi. Grazie davvero di essere stati con noi. Grazie. Ciao, ciao. A tu per tu, filo diretto con la città.